Testa sierologici gratuiti in Toscana per chi dona abitualmente sangue e plasma a partire da lunedì 15 giugno. Ad annunciarlo è l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi alla vigilia della giornata mondiale del donatore del sangue che sarà domenica 14 giugno. Questa ulteriore iniziativa, dice, costituisce un tassello importante della politica adottata dalla regione di testare, tracciare e trattare dopo operatori sanitari, forze dell'ordine e dipendenti pubblici che svolgono attività di front office, abbiamo deciso di inserire i donatori periodici di sangue e plasma tra le categorie che verranno sottoposte al test sierologico al fine di ricostruire la storia epidemiologica del covid sul territorio toscano. I donatori prenotati sul sistema Agendona per evitare assembramenti potranno essere sottoposti al test nel momento in cui si presenteranno a donare l'effettuazione è comunque su base volontaria. Il test sierologico non rappresenta comunque alcun patentino, se negativo indica con un elevato livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2 ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione. Un test sierologico positivo indica invece il fatto che l'organismo è venuto a contatto con il virus. I positivi verranno così contattati personalmente, sottoposti al tampone e presi in carico dalla medicina territoriale sino a guarigione definitiva. I donatori risultati positivi potranno infine essere arruolati sempre su base volontaria per lo studio tsunami e donare plasma iperimmune.